Buongiorno a tutti, ormai buonasera, però a me viene naturale dire sempre buongiorno quando inizio un video. Pagelle, Juventus-Fiorentina 1-0. E lo so che è difficile parlarne adesso, praticamente sono passate 24 ore o comunque quasi dal fischio d'inizio della partita di ieri e oggi ci sono state altre dinamiche da approfondire, da affrontare e sono contentissimo che abbiate risposto super presenti e quindi vi ringrazio per tutto il calore e per aver visto i contenuti di oggi. Io comunque ve li lascio qui sopra nelle schede, ci sono due video che sono già usciti. Questo qui che vedete in schermata è quello inerente a quello che è accaduto dopo Juventus-Fiorentina negli spogliatoi, un confronto tra allegri giocatori, allegri della società, un po' di caos da questo punto di vista e ovviamente c'è anche il video in cui vi parlo delle parole. Quindi andiamo ad analizzare quelle che sono state le parole post partita di Allegri e le parole di Lucatelli che sono state molto molto importanti. Io vorrei partire da Allegri che ieri leggevo ha stabilito un record, un primato, per quanto riguarda il suo secondo ciclo alla Juventus, quella di ieri sera nel secondo tempo è stata una partita col minor possesso palla della Juventus in assoluto. Io non credo che sia nemmeno questo il problema, perché per me puoi fare anche 20% di possesso palla contro tutte se poi la tua volontà è aggredire e ripartire in maniera organizzata, facendo bene. Io credo che le statistiche vadano sempre contestualizzate. E anche nel primo tempo la Juve aveva poco la palla. Il problema è che poi la Juve si è abbassata e anche tanto. E credo che Locatelli abbia descritto alla perfezione questa situazione qua. Quindi non ne faccio tanto un discorso di possesso palla. Io credo che il possesso palla sia un'arma importantissima. Oggi le squadre che vincono e dominano in Europa o comunque nei campionati solitamente sono quelle che hanno più possesso della palla. È anacronistico pensare di poter vincere senza la palla tra i piedi, ma non è una discriminante necessaria per quanto mi riguarda, perché l'organizzazione riesce sempre a superire anche alle percentuali, alle statistiche. Mi viene in mente la partita di campionato tra Juventus e Lazio, giocata allo Stadium, quindi l'andata. Vinciamo per 3-1, una delle mie riprestazioni stagionali. Eppure il possesso palla era stato tutto della Lazio. A maggior ragione perché la Juve è una squadra che quando ha la palla non sa cosa fare. Quindi se devo fare il 70% di possesso palla, e in questa stagione abbiamo visto la Juventus fare anche dei 60-65% di possesso palla, ma erano dei possessi palla lenti, sterili, in orizzontale, nella retroguardia. Non mi interessa. Preferisco averla poco, andare tanto in verticale e fine. Il problema è che ieri sarò abbiamo fatto solo un tempo. Il secondo tempo è troppo brutto per essere commentato. Troppo brutto per essere commentato. Allegri ha detto che Chiesa non era nemmeno al 100%. Un po' si è visto, devo dire la verità. Ildis non parte di tornare neanche in queste situazioni. Allegri ha deciso di fidarsi dei dieci giocatori in movimento che avevano vinto la partita con la Lazio, ed è andata bene dal punto di vista del risultato. Secondo me si potrebbe iniziare, ma personalissima opinione, a fare delle rotazioni fatte bene. Cioè, se gioca Ildis a posto di Chiesa, perché Chiesa non è al 100%, non è quella che ti va a rivoluzionare la partita o ti va ad abbassare la qualità. Anzi, credo che sia una delle poche sostituzioni che possiamo fare a cuor leggero. Per il resto, tre punti importanti. Una partita in meno da qui al termine della stagione. La Juventus deve solo arrivare in Champions adesso e poi ufficializzare il proprio futuro. Chiesa in 7,5%. Perché se la Juventus porta a casa i tre punti, credo che gran parte del merito passi dall'indice, dal polpastrello, dalla falange, dal guanto, chiamatelo come volete, di Wojciech Chiesa. È l'ennesima prestazione stagionale in cui Chiesa riesce a salvarci le chiappette perché tra la parata su Biraghi, su punizione all'andata, tra la parata su Giroud, tra la parata, mi pare, su punizione di Muriel contro l'Atalanta a Bergamo, in quello 0-0. La parata di ieri, bisogna essere quattro parate. Adesso ne ho dette quattro, ma ci sono state anche altre parate magari meno appariscenti rispetto a queste che poi ti portano a fare dei punti. Ti hanno portato a fare dei punti. E Chiesa quest'anno ha sbagliato una partita, che è quella col Sassuolo, tutte le altre le ha fatte ad altissimo livello. Chiesa è un giocatore in scadenza 2025. Per me la Juventus farebbe bene a ragionare sul futuro dei portieri, senza però dimenticare che questo è uno dei pochi giocatori internazionali che ha la Juventus. Il portiere ha un ruolo particolare. Abbiamo visto Buffon andare avanti per anni e anni e anni. Chiesa aveva il compito mica facile di sostituire il miglior portiere della storia. Il miglior portiere della storia, o almeno storia recente. E lo sta facendo molto bene. E pensare a un portiere che dovrà sostituire il portiere migliore della storia recente, bisogna trovare uno bravo, uno forte. E Chiesa sta veramente facendo benissimo. Perché se in questo Allegri bis la fase difensiva non è stata regolata, non è stata regolata, perché le statistiche parlano di quasi un gol subito a partita per la Juventus di Allegri in questo secondo ciclo. Ecco, se questa statistica non è ancora peggiorata rispetto a un qualcosa di già mediocre di suo, tanto del merito passa a Wojciech Czesny, che è il miglior in campo per la parata appunto di ieri sera su Nico Gonzalez, ma non solo, perché poi c'è anche quella prontezza di riflessi ad andare a recuperare quella palla su un Zolaic, sono due o tre situazioni in cui Czesny si è fatto trovare pronto come il tiro di Barak, che era debole, era brutto, era centrale, però sono quelle cose in cui ti serve anche avere quella sicurezza del portiere. Sette e mezzo. Voto sette a Gatti, perché se Czesny è l'MVP, gradino subito sotto, se lo prende Federico Gatti. Quarto gol in stagione, il miglior difensore centrale da questo punto di vista in Europa, leggevo. Boh, mi sembra strano, quattro gol non sono tantissimi per tutta l'Europa. Per la Serie A si sono tanti e Gatti ha fatto di questo la sua fortuna, perché Gatti veramente si sta creando una carriera sfruttando il fisico che gli ha donato madre natura. E in un calcio così combattuto e lignoso come quello di Allegri spigoloso, beh, Gatti è una manna dal cielo. E su quattro gol mi viene in mente il derby di Torino però vincendo a zero. Ma gli altri, Monza al novantesimo, Napoli e ieri sarà Fiorentina sono tutte partite che vinci con un gol di scarto. Quindi lo stesso discorso che abbiamo fatto per Scesni lo facciamo per Gatti. Determinante, il miglior giocatore secondo me in assoluto per miglioramenti dell'Allegribis. Questo è davvero un giocatore su cui ha messo mano Allegri. Sono davvero convinto di questo. Poi Gatti è arrivato tardi in Serie A perché è un classe 98 Gatti, quindi non è un ragazzetto, non è un ragazzino. È già nella fase di maturazione generale però Gatti con il fisico, con il cuore e con il sacrificio sta facendo vedere di poter stare a questi livelli. Io non sono convinto la titolare della Juve però sono pronto ad essere smentito. Voto 6 mezzo Bremer la solita partita di Bremer che non fa vedere palla Belotti nel primo tempo nel secondo tempo provano un po' a confondere o togliendogli i riferimenti davanti salvo poi inserire due punte. La storia non cambia una punta, due punte, zero punte Bremer domina l'area di rigore della Juventus. Voto 6 a Danilo qualche uno contro uno pericoloso su Nico Gonzalez se nel primo tempo aveva tenuto bene nel secondo tempo ha iniziato un po' a soffrirlo quindi il voto cala un pochino per quello. Danilo è un giocatore sul quale secondo me sarà necessario fare delle riflessioni quest'estate tanto terminiamo la stagione è il capitano però bisogna sicuramente pensare un po' sulla figura di Danilo perché sta iniziando a invecchiare ed è logico che vadano fatte delle considerazioni 6 e mezzo a Kostic una delle migliori partite di Kostic quest'anno mi è piaciuto una buona preparazione fisica è sembrata ieri sera da parte di Kostic o sta iniziando ad entrare in condizione adesso alla faccia del diesel anzi mi è dispiaciuto anche vederlo sostituito ma Allegri l'ha spiegato ho detto chiesa non stava bene non volevo bruciarmi uno slot e quindi ho comunque sostituito Kostic che aveva giocato tanto con la Lasse una lettura che ci può stare ma secondo me Kostic sta facendo una partita abbastanza buona voto 6 a McKennie che sempre lì pronto a girare per il campo lo va a mettere un po' di qua un po' di là un po' alto mezzala tornante quasi nel 3-5-2 poverino McKennie tanta quantità ma anche qualità anche perché aveva fatto un assist a Vlaovic meraviglioso peccato che in quel giustissimo movimento per entrare fuori gioco abbia lasciato il piedino avanti Locatelli 5 e mezzo c'è stata una domanda di Manuel Gamba di Repubblica in conferenza stampa da Allegri post partita e gli chiedeva come mai Locatelli che è il regista della Juventus ha toccato solo 21 palloni cosa vorrete fare per migliorarlo e Allegri ha detto gli faremo toccare più palloni beh sì insomma d'accordo però siamo alla fine del terzo anno e Locatelli è lì soltanto per dare una mano alla difesa e basta mi sembra un po' poco nel percorso di crescita che dovrebbe portare un giocatore a maturare e migliorare però è stato un investimento anche importante Locatelli per la Juve è stato costruito un ruolo che sì è il suo dal punto di vista della lotta dello abnegazione quello che volete però Locatelli era un prospetto differente quando è arrivato alla Juventus se questi tre anni hanno un po' modificato quella che era la carriera o sembrava potesse essere la carriera di Locatelli voto 5 Rabiot assente assente dal campo una delle poche volte che l'abbiamo visto ha perso anche un contrasto dal punto di vista fisico a me pare che Rabiot stia un po' tirando i remi in barca io lo devo dire mi sembra che Rabiot oggi stia un po' tirando i remi in barca spero di sbagliarmi perché la stagione non è finita c'è una coppa Italia da vincere è vero che c'è l'europeo quest'estate però ragazzi la Juventus è un po' più importante adesso quindi spero davvero di sbagliarmi non vorrei dover confermare questo mio dubbio questo sospetto a volte a pensare male si fa peccato ma ci si può beccare e non voglio essere cattivo con Rabiot perché non ho certezza di questo ma la sensazione è che in campo Rabiot non stia dando tutto non so magari per questioni fisiche dato che ha avuto anche un infortunio ed è stato costretto a tornare in campo ricorderete che abbiamo fatto un paio di partite senza Rabiot avevamo anche sentito l'assenza ma il Rabiot che sta scendendo in campo adesso non è il Rabiot o almeno il Rabiot che abbiamo imparato a conoscere nell'ultimo anno Cambiaso voto 5 e mezzo Cambiaso ultimamente lo vedo un po' non dico stressato ma come possiamo dire un po' teso no? lo vedo sempre lì che discute sempre un po' timoroso chiacchiera tanto forse dal punto di vista mentale sta iniziando a far fatica dopo una stagione così da titolare nella Juve però bisogna tener botta Andrea bisogna tener botta perché ha fatto una stagione meravigliosa fino adesso dobbiamo continuare così anche ieri aveva dato una palla meravigliosa a Ildis purtroppo l'ha stoppata male e non è riuscito a fare forse il gol più veloce della storia del calcio da subentrato però lo vedo un po' scarico un po' con le pide scariche mentalmente Cambiaso quindi una richiesta che gli faccio nella difficoltà perché capisco che prima stagione la Juventus è giocato tanto però bisogna bisogna dare un po' di più in questo finale sono convinto che lui lo possa fare perché è un giocatore importante 5 e mezzo a Chiesa troppo poco secondo me troppo poco anche qui aveva la coscia in sovraccarico io credo che Chiesa già faccia fatica in questo momento per un discorso fisico ormai ho perso il conto di quante volte ve l'ho detto se iniziamo a farlo giocare anche in condizioni non eccezionali secondo me perdiamo ancora di più il potenziale di questo giocatore e alla fine delle partite diciamo sì vabbè e quindi tanta negazione di Chiesa fase di non possesso dovevo tornare a raddoppiare abbiamo fatto anche un po' di movimento senza palla ecco l'unica stione degna di nota di Chiesa è Rabiot secondo me quella del gol di Vlaovic annullato con Rabiot che fa il movimento senza palla Chiesa che va a crossare sul secondo palo però un po' più importanti e quindi Chiesa se non sta bene dal punto di vista fisico secondo me gli fai anche un dispetto a metterlo in campo a maggior ragione perché è un giocatore come Ildis che secondo me se fai giocare lui è solo che è felice ma qui torniamo un po' al discorso che facevo stamattina non è che è successo qualcosa tra Ligri e Ildis perché la percezione che mi viene è questa qui 5 e mezzo Vlaovic che ha fatto un buon primo tempo devo dire la verità anche Puliziani e passaggi secondo me sta crescendo tanto dal punto di vista mentale della leadership che l'ho già detto nelle puntate precedenti ha fatto due gol sono stati annullati entrambi alla fine della fiera purtroppo ancora un po' troppo poco ma nel secondo tempo Vlaovic ha praticamente fatto il mediano e non l'attaccante diventa complicato anche per un giocatore che sta migliorando tanto come lui 8-6 a Ildis che quando è entrato le sue due tre sgasate le ha fatte ha fatto arrabbiare Allegri perché non è andato dalla bandierina c'è da dire che ragazzi poi Ildis prende il fallo quindi dal punto di vista dell'efficacia è la medesima possiamo dire che è quasi la stessa cosa sul calcio d'angolo avresti perso qualche secondo attimo frangente in più boh sì forse sì però comunque Ildis fa quello che doveva fare non ha perso palla la Fiorentina non era ripartita non hanno fatto gol mi è sembrata una polemica un po' sterile più che altro secondo me loro dovrebbero ragionare dal punto di vista dell'organizzazione quello sia un dibattito interno che devono portare sul banco della discussione per forza di cose Iling 5 e mezzo non mi è sembrato entrare particolarmente bene un giocatore intermittenza Iling o ci sono delle partite in cui è un fenomeno o ci sono delle partite in cui fa poco una gestione un po' particolare quella di Iling quest'anno ha fatto tante presenze ma pochi minuti perché tutte le volte che è entrato ha fatto veramente degli spezzoni se partiva titolare veniva sostituito Alcaraz è senza voto entrato perché ballavamo un po' tanto di là Cambiace era stato ammonito Allegri ha voluto spostare McKennie per dare un po' di solidità sulla destra Ken poverino è entrato per andare a rincorrere i palloni un po' come quando lanciano giù dei cari al carnevale le palle tu devi rincorrerla prima che la prendano gli altri perché se no non puoi prendere il premio non ha fatto l'attaccante e quindi queste erano le pagelle ragazzi un po' ridotte perché di partita secondo me c'era tanto da parare nel primo tempo poi bisogna valutare i 90 minuti e nel secondo la Juventus praticamente non è scesa in campo non è stato un atteggiamento proprio giusto quello della Juventus che è scesa di 10 metri dal punto di vista del baricentro in fase di palleggio no a maggior ragione che sei un gol in avanti devi cercare di chiudere questa partita la Juventus non è in grado di chiudere le partite e in questo secondo ciclo di Allegri negli ultimi tre anni questo è stato il più grande limite della Juve non avere coraggio di andare a chiudere le partite e finché sarà così sarò molto critico nella lettura delle partite perché poi può succedere di tutto e ti possano pareggiare da un momento all'altro ciao ragazzi è forza Juve grazie a tutti